buongiorno a tutti ragazzi eccoci qua ora stiamo facendo due test con il nostro drone in acqua chiaramente perché in aria gli piace poco in acqua chiaramente 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 assolutamente senza nessun problema possiamo darglielo stop eliche come potete vedere e il drone funziona chiaramente perfettamente facciamo un piccolo zoom andiamo a vederlo ok adesso nella fase di galleggiamento chiaramente molliamo i comandi e il drone sta perfetto insomma direi che come strumento di pesca è una vera e propria faccia noi siamo abituati a trattarlo male ma diciamo che lui non si scompone ci da sempre delle grandi soddisfazioni anche questo prodotto chiaramente con il rilascio terminale e abbiamo la versione con il rilascio terminale quindi lo sgancio pastura e abbiamo la versione con il rilascio pastura e la videocamera chiaramente per i clienti che si accontentano di meno ecco quindi più esigenti come potete vedere anche in acqua lo possiamo far girare a 360 gradi senza nessun problema decollo rapido atterraggio altrettanto rapido con un bel tuffo eccoci qua vi lascio godere un po' le immagini adesso chiaramente perché direi che ce n'è bisogno beh direi che ci siamo il nostro test è terminato vi saluto un ringraziamento a tutti i nostri prodotti li potete trovare sul nostro sito rcfishingboat.it e potete inviarci un'email all'indirizzo rcfishingboat.gmail.com grazie a tutti c'è ragazzi alla prossima grazie a tutti